Amici di Pianeta Giovani, buonasera e bentornati al consueto appuntamento con la categoria Giovanissimi. Le immagini che state vedendo si riferiscono a domenica 9 settembre. Siamo a Paderno ed è partito il primo trofeo Forneria GF. In pista troviamo gli atleti della categoria G1, che anche quest'oggi hanno aperto le competizioni. Partenza a razzo per i nostri piccolini, con Team Xtreme, Rodengo Saiyano e Nuvolento nelle prime posizioni. Suono della campana e al comando troviamo il portacolori del Team Xtreme, con qualche metro di vantaggio su Nuvolento e Rodengo Saiyano. Più indietro il resto del gruppo. Ma eccoci all'arrivo con Foresti Andrea del Team Xtreme che va a conquistare un'altra splendida vittoria. Dietro di lui si piazzano Bettinetti Enrique del Team Nuvolento, Volpi Luca del Progetto Ciclismo Rodengo Saiyano, Zanetti Emanuela della Nuvolento e Venturelli Mirko della Ronco. Tra le bimbe vince Zanetti Emanuela della Nuvolento davanti a Musta Kinsafà della Autelli e Ba Giulia della Bornato. Sembrava il suo pianto rugiada, rimase da solo, chiamò la sua mamma, si accese nel cielo una fiamma.